Senti, lasciami fare per un attimo, per cinque minuti, il giornalista. Io credo che non solo i colleghi che sono presenti, ma anche i nostri ospiti siano curiosi di sentire dalla tua viva voce un po' il punto, sia pure sintetico e rapido, della situazione. La prima domanda che mi viene in mente è se sei soddisfatta e come leggi il risultato delle elezioni europee concluse pochi giorni fa. Lo leggo molto bene il risultato delle elezioni europee. Ripetisco quello che ho detto la sera stessa del voto, che per me è stato un risultato più importante di quello delle elezioni politiche, perché è un voto diverso. Il voto del 2022 poteva anche essere un voto di protesta, di aspettativa, di speranza. Dopo quasi venti mesi di governo, tra l'altro in una situazione impossibile come quella che noi ci troviamo ad affrontare, con scelte che devi fare, che sono spesso anche difficili, che sono scelte coraggiose, perché il voto degli italiani diventa un voto di conferma, è un voto più, dal mio punto di vista, più concreto, più meditato. E quindi per me è stata una grande soddisfazione ed è stata una grande soddisfazione proprio perché per noi non è stato facile fare le scelte che abbiamo fatto in questa situazione complessa, in questi due anni. E questo dice una cosa estremamente importante degli italiani, che capiscono il buonsenso. E oggi la lettura che secondo me la classe politica dovrebbe dare dei cittadini è molto diversa da quella che ha spesso dato. C'è una politica che pensa che quello che sembra valga più di quello che è, che pensa che comunicare sia più importante di fare, che pensa che se menti alla fine forse puoi andare meglio. Non è così, non è così, la gente capisce e capisce anche le materie più complesse, vede. Anche quando tu sei chiamato a fare delle scelte complesse, se le fai con buonsenso gli italiani lo capiscono. Per me questo è fondamentale. Primo, secondo, sono estremamente fiera del risultato della maggioranza, non semplicemente di Fratelli d'Italia. Ho già fatto i miei complimenti sia a Antonio Tagliani che a Matteo Salvini per il risultato della Lega e di Forza Italia. Si dimostra ancora una volta che il centrodestra può crescere insieme, che non è vero questo racconto che pure viene spesso fatto dagli osservatori, no? Che se un partito andrà bene diventa un cannibale dell'altro. No, noi abbiamo lavorato per crescere tutti, per pescare in altri ambiti, nell'ambito anche di quelli che erano stati indecisi a votare. E tutti i partiti della maggioranza sono cresciuti e questo per me è estremamente prezioso. C. Si riavvicina un pochino il bipolarismo. Non potrei dire che siamo in un sistema bipolare perché nel centrodestra c'è una coalizione coesa. Nel centrosinistra oggi obiettivamente non c'è, c'è un po' tutto, il contrario di tutti. Anzi, io vedo che tra il PD a guida Schlein che cresce e il risultato di Bonelli frato gli anni vedo un rischio radicalizzazione a sinistra. Mentre l'elettorato più moderato si è chiaramente spostato verso il centrodestra. Però sicuramente c'è stata una semplificazione nel quadro. La morale è che gli italiani ci chiedono di andare avanti e io intendo farlo, noi intendiamo farlo con ancora maggiore determinazione.